Processo per direttissima questa mattina a Venezia per Andrea Penzo, conosciuto ormai da tutti come lo smizzo, per le sue doti di riuscire a entrare nei negozi e negli uffici anche attraverso aperture molto strette. Dopo l'ultimo periodo al carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia, gli erano stati concessi gli arresti domiciliari, ma come era facilmente immaginabile, ormai si tratta di un soggetto che non riesce a seguire le regole, ed evidentemente era stato sorpreso fuori dal suo domicilio e quindi scattato il processo per direttissima che si è svolto questa mattina a Venezia. Dopo il processo è stato riportato a Chioggia dai carabinieri, al momento non è noto quale sia stato l'esito, probabilmente rinviato per ulteriori udienze. Non è l'unica situazione a Chioggia di persone che purtroppo non riescono o non vogliono seguire un minimo di condotta civile, l'altra situazione è quella del giovane Marco Penzo che continua a terrorizzare, impunito, alcune calli di Riva Vena. Vincenzo senti cosa stai fermo, mi fai tutti i rumori, tesoro mio. Indiga Sottomarina ha ideato un menù terribilmente gustoso in occasione della giornata più spaventosa dell'anno, da farti perdere la testa. Potrai provarlo da lunedì 31 ottobre a mercoledì 8 novembre a pranzo e a cena. Trenota al tuo tavolo allo 041 40 55 20.